Buongiorno, buon sabato. Buongiorno, buon sabato. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, la nostra rassegna stampa. Iniziamo subito con le prime pagine dei quotidiani regionali, partendo dal centro che già vedete alle mie spalle. L'edizione di Pescara in apertura titola così. Parcheggi e scontro in comune. Pescara, l'assessore Diodati, no alle auto sulla strada Parco o lascio la delega. Andiamo a centro pagina nella fotografia. Paura in Viale Kennedy. Grosso Pino cade e sfiora un'auto in pieno centro. Sono i momenti di panico che si sono vissuti ieri a Pescara. Sfiorato una vettura, nessuno è rimasto ferito, ma tanta paura tra i passanti. Traffico bloccato sull'arteria tra il lungomare e la strada Parco e bus deviati. E ora è allarme. In città sono 2.500. Gli alberi considerati a rischio. Andiamo a vedere sotto la fotografia. Traffico e parcheggi controllati con 5 milioni di telefonini. Il piano della mobilità del Movimento 5 Stelle. Poi lavoro anche in Abruzzo. Poste italiane firma l'accordo per fare 6.000 assunzioni. Andiamo a vedere adesso nelle cronache. Si torna a parlare della tragedia del viadotto di Francavilla. Angrilli. Ora vivo per Marina e Ludovica. Nulla è più uguale, però dobbiamo trovare la forza di vivere per Marina e Ludovica, che erano interpreti della vita migliori di noi. Il dottor Francesco Angrilli torna a parlare pubblicamente della tragedia che ha colpito la sua famiglia a quasi un mese da quella maledetta domenica di maggio, quando il cognato Fausto Filippone ha dato forma alla sua follia uccidendo la moglie Marina e la figlia Ludovica, lanciandole da un balcone e dal viadotto della 14 prima di togliersi la vita. Andiamo adesso a Montesilvano. L'Alessandrini si trasferisce in via Dagnese. Questa è la notizia. Poi Francavilla lite sul nome della festa di San Franco a cena con gli artisti che quest'anno, come ha annunciato il sindaco, cambierà nome la lite con la ex collaboratrice Cristiana Canosa. Andiamo a vedere adesso all'interno del giornale i migranti. Vertice Macron-Conti in un clima di disgelo per quanto riguarda la politica estera e poi mondiali. Ronaldo carica il Portogallo, tripletta e pari con la Spagna. Nel taglio basso troviamo il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, il titolo abbastanza eloquente. I mondiali facciamo finta che sia il 2006, purtroppo però non è il 2006 e l'Italia non partecipa ai mondiali. Andiamo ancora avanti con il centro. Andiamo a vedere l'edizione di Chieti Lanciano Vasto. Il titolo di apertura a casa di riposo fa causa al comune. Chieti non paga le rette e l'ex IPAB fa partire l'ingiunzione di 125 mila euro. Nello spazio delle cronache Chieti, tassa di soggiorno, gli universitari sono esentati. Niente tassa dunque per gli studenti iscritti alla d'annunzio e quanto prevede una proposta del consigliere PD di Chieti, Alessandro Marzoli, approvata in una seduta congiunta della Commissione Bilancio, Regolamento e Turismo. La proposta di Marzoli, appoggiata dal consigliere Luigi Febbo di Chieti per Chieti e poi da tutta l'opposizione e anche dalla maggioranza, introduce una modifica al regolamento della tassa sugli alberghi che dovrebbe entrare in vigore a partire dal primo di luglio. E poi Lanciano, 3 mila poveri, ma chi li aiuta ha meno soldi. E poi Vasto, nessun nido di fratino sui lidi vastesi. A centropagina, festa a Chieti, il regalo va in beneficenza alla maestra del Tricalle in pensione dopo 40 anni. Si tratta della maestra Anna Soriente, la prima da sinistra, che ha visto crescere generazioni di giovani teatini e per lei è arrivato il momento della pensione dopo oltre 40 anni nella scuola di infanzia di Via dei Frentani al Tricalle. La maestra è stata festeggiata dagli alunni, dai genitori e dai colleghi e il regalo è stato devoluto in beneficenza per una ludoteca ad Ari. E poi ancora andiamo avanti con il giornale, continuiamo sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere l'edizione Teramana. Qui c'è la cronaca nera in apertura, amore schiacciato da una ruspa, tragedia in un'azienda di colonnella, vittima a un 62enne di Canzano. Ancora un incidente sul lavoro nella nostra regione. Poi a centropagina Teramo al ballottaggio confronto tra i due sfidanti, morra apre a Cavallari, d'Alberto punta su volti nuovi. E poi andiamo a vedere nel crona che sempre da Teramo beve l'acqua e si sente male, scatta l'inchiesta. C'è un'altra inchiesta che la procura Teramana avvia sul tema acqua perché da qualche giorno accanto al voluminoso fascicolo già esistente sulla sicurezza del sistema Gran Sasso c'è quello per adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari aperto dal PM Stefano Giovagnoni sul caso di una sessantenne di Casemolino di Castellalto che nei giorni scorsi è finita al pronto soccorso per dei malori dopo aver bevuto l'acqua dal rubinetto di casa. A Pineto bimba annegata sotto processo madre e bagnino e poi al Badriatica varata la giunta Casciotti, incarichi a tutti. Andiamo a vedere ancora il centro nell'edizione di L'Aquila Vezzano sul Mona, il titolo di apertura, nuovo ospedale, la città si divide, spuntano dubbi dopo l'annuncio, i sindacati abbiamo altre priorità. A centro pagina la festa sul monese Valeria Marini, madrina della giostra cavalleresca e poi nello spazio delle cronache l'Aquila. Campo federale nel degrado è polemica, la foto dello scandalo del campo federale Nello Mancini, il trionfo del degrado e dello spreco, una macchia sul post terremoto che chiama in causa direttamente la FIGC, la proprietà è di Federcalcio Servizi e le sue articolazioni territoriali sono arrivate dentro il palazzo. Immagini eloquenti, impossibile per chiunque cancellare o peggio ancora soltanto pensare di poter minimizzare. Antonio Papponetti, ex dirigente della FIGC, va all'attacco. Avezzano ora, area ex arsa in arrivo 5 milioni e da Sulmona cavi tranciati in via Pola, internet in tilt nella città Peligna. Proseguiamo con la lettura delle prime pagine regionali, adesso cambiamo testata, andiamo sul messaggero, andiamo a vedere la prima dell'inserto Abruzzo, perdono poi ha ucciso la ex Pescara, il delitto della sommelier, il marito ha raccontato in retroscena in tre lettere, l'uomo temeva che Donatella Briosi potesse aggredire il suo patrimonio economico. L'omicidio dunque della 64enne sommelier pescarese avvenuto martedì in uno studio notarile del centro di Udine era stato pianificato nei minimi dettagli dall'ex marito Giuliano Cataruzzi, architetto 80enne, suicidatosi dopo il delitto. L'uomo aveva previsto tutto, da come procurarsi la pistola calibro 38 con cui ha freddato la ex, a come e quando ucciderla. Lo dimostrerebbero tre lettere trovate nello studio della villa di Tarcento, al centro della tragedia. Due separati ormai da tempo, martedì, erano andati dal notaio per stipulare un atto di compravendita della villa di proprietà di Cataruzzi, ma gravato da un'ipoteca a favore di Donatella. Andiamo avanti ancora con, purtroppo, la cronaca nera travolta con la pala meccanica dal collega. Non l'avevo visto. Teramo, terribile incidente alla stamme di Colonnella. La vittima ha 62 anni e si tratta di Aldo D'Agostino di Canzano, che appunto nella mattinata di ieri è morto sul colpo mentre lavorava all'interno di uno dei capannoni della stamme, ditta di Colonnella, che tratta rifiuti organici e il loro recupero. Andiamo a vedere le altre notizie sulla prima pagina del messaggero. A Pescara la denuncia dei commercianti. Andiamo a vedere perché questa fotografia c'è degrado in piazza Salotto. Gazebo abbandonati, diventati casa di Crosciarca, attacce e scatoloni, topi in libera uscita, tutto nella centralissima piazza Salotto. Nel taglio basso, ancora cronaca, Chieti, l'autopsia, il feto era nato morto. Dunque, così, questo è il risponso dell'esame autoptico sul feto partorito in casa, dalla giovane di 26 anni finita sotto inchiesta insieme al compagno. Il corpicino di soli 8 mesi è stato analizzato e sono stati disposti gli esami tossicologici per accertare se l'uso di droga abbia influito sull'aborto avvenuto martedì mattina. È dunque destinato a cambiare il quadro iniziale, considerando che i genitori sono indagati per omicidio volontario. L'esito dell'autopsia fa cadere la contestazione di omicidio colposo nei confronti di medico e infermiera del 118 che hanno soccorso la ragazza. Andiamo a vedere adesso di spalla, strada dei parchi, l'aumento dei pedaggi non spetta a noi. Questo è il dibattito ancora sulla importante infrastruttura viaria. I ritocchi tariffari possono essere decisi soltanto dal governo, così il gestore di A24 ed A25. Andiamo nel taglio alto per le altre notizie. Pescara, Loredana, Bertè sul palco della Notte Bianca dell'Adriatico. E poi tradizioni, la transumanza, fare scoprire lo storico cammino dei pastori. E per il calcio il Pescara tiene macine Palazzi, Brugman a Parma. Oggi all'Adriatico previste 10.000 persone per la finale playoff di Serie C fra Cosenza e Siena, ma gli ultras del Delfino protestano. Andiamo a vedere anche la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Chiaramente in apertura c'è il dramma di Colonnella, muore schiacciato dalla ruspa, incidente in un'azienda di fertilizzanti, coinvolto un operaio di 62 anni. Nel taglio alto a Quasicura, Sorgenti, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ammette di non essere a norma. E poi di spalla a Teramo al ballottaggio, la Lega svela gli accordi per le regionali. E sulle elezioni c'è anche il borsino elettorale del direttore della città, Alessandro Misson. Sono gli uni e gli altri riferiti alle due parti politiche in campo in questo ballottaggio, cioè le liste a sostegno di Gianguido D'Alberto e quelle a sostegno di Giandonato Morra per quanto riguarda rispettivamente centrosinistra e centrodestra. E poi ancora Dodo e Gatti, i nemici amici devono trattare, sono stati pizzicati insieme. Poi l'offerta cavallaria, appoggio in cambio della ricostruzione, sempre per quanto riguarda il ballottaggio con gli apparentamenti che si chiudono domani. Ancora Casciotti assegna tutte le deleghe, il sindaco di Alba Adriatica ha già presentato la giunta per chiudere così per quanto riguarda la pagina politica. Adesso andiamo a vedere le notizie dal nazionale con una panoramica sui principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera, in apertura, migranti, intesa con Parigi, la visita di Conte, replica del vicepremier, niente lezioni dalla Francia, non caleremo più le braghe. Centri nei paesi d'origine, l'idea, l'intesa fra Parigi e Roma, Macron critica Salvini, si parla tra presidenti, questa la stoccata al ministro dell'interno. E poi c'è la riflessione di Franco Venturini, crisi e speranze, i nemici di questa Europa. Andiamo a vedere adesso il centropagina, il rogo a Messina, avevano 13 e 10 anni, la disperazione dei genitori, il piccolo eroe morto per salvare il fratellino. Francesco Filippo e il fratello Raniero sono morti nel rogo della casa di Messina, il più grande ce l'aveva fatta ma è rientrato per salvare il fratellino. E poi l'inchiesta di Roma, così Lanzalone gestiva il comune, lui ero un privato, l'inchiesta, Raggi lo avvisò dell'indagine, si parla ovviamente dell'inchiesta della magistratura sul nuovo stadio della Roma. Proseguiamo con la Repubblica, anche qui in apertura c'è l'indagine romana, incarichi e favori, così puntavano sul nuovo governo stadio della Roma, l'inchiesta si allarga. Parnasi pronti 200 mila euro per la Lega, Raggi e IPM, Lanzalone voluto da Bonafede. C'è l'editoriale di Ezio Mauro, i gregari del potere, poi il personaggio Casaleggio, il gran suggeritore, scrive Sebastiano Messina. Centropagine invece nella grande fotografia il vertice fra Italia e Francia, Macron divide Conte da Salvini, a che gioco sta giocando l'Italia? E poi proseguiamo di spalla con i mondiali, Ronaldo è già superstar, regge la Spagna, orfana di CT, nell'articolo di Gianni Mura sulla superpartita di ieri fra Spagna e Portogallo. Andiamo sulla stampa in apertura, Macron, schiaffo a Salvini, io parlo solo con Conte, l'irritazione del ministro dell'interno perché il premier non mi ha difeso, si è chiesto Salvini, in migrazione, questo è quanto emerso dal vertice all'Eliseo e poi la xenofobia non protegge l'Europa e il reportage arriva l'Aquarius a Valencia e l'ora della solidarietà, nave che è prossima allo sbarco. Troviamo anche i dazzi doganali in primo piano sulla stampa, USA, Cina, guerra commerciale da 100 miliardi in prigione, Manafort, l'ex capo della campagna di Trump, nel mentre appunto la Cina decide dazzi sulla importazione di prodotti dagli Stati Uniti in risposta all'annuncio di Trump. Andiamo sul sole 24 ore adesso, in apertura Merkel sottotiro sul caso migranti, Europa in allarme e questo è il mood principale per quanto riguarda la politica estera in questo periodo e poi Conte, hotspot in paesi d'origine, il vertice di Parigi, la proposta del premier sostenuta dal presidente francese Macron. Andiamo ancora sui dazzi doganali nel taglio basso, il commercio globale, Trump insiste sulla Cina, via a dazzi per 50 miliardi, e vi ho detto già la risposta della Cina, qual è stata? Andiamo sul fatto quotidiano, in primo piano lo scandalo, Stadio della Roma, la missione di Lanzalone per le nomine 5 Stelle, Mister Wolf andò a Palazzo Chigi, Parnasi, altri 150 mila euro al PD, l'avvocato consulente a fine aprile si muoveva per concordare in carichi per Human Technopole e diceva, mi manda Di Maio. Il vice premier ribatte, è falso, dall'immobiliarista, finanziamenti non solo alla Lega ma anche alla fondazione DemEIU di Bonifazi. Ancora nel taglio alto, il vertice Francia-Italia, disgelo Conte Macron, migranti non solo a noi, ritorna l'ipotesi degli hotspot fuori dai confini. Un'ipotesi che chiaramente non è una ipotesi nuova ma che si era già fatta in precedenza e non si è concretizzata mai. Andiamo sul manifesto adesso, il quotidiano comunista, il titolo sulla fotografia, disumanità, in un rapporto shock di Oxfam, gli abusi della polizia francese contro i migranti respinti alla frontiera di Ventimiglia, le vittime soprattutto donne e bambini. A Parigi Macron sigla la tregua con Conte ma non con Salvini, intesa sugli hotspot in Africa gestiti dall'Unione Europea e prosegue questa polemica fra Italia e Francia sulla accoglienza. Nel taglio alto, Russia 2018, tra una partita e l'altra il governo aumenta l'IVA e l'età pensionabile, poi la guerra commerciale di Trump, dazzi sui prodotti cinesi per 50 miliardi, IRA di Pechino, ritorsioni immediate. Proseguiamo sul messaggero, il quotidiano romano apre con il caso Stadio della Roma, nomina per lo stadio, raggi dai PM, questo il titolo di apertura, la sindaca interrogata sullo strano ruolo di Lanzalone, lo hanno voluto Bonafede e Fraccaro, il manager si difende, non aveva incarichi, Parnassi, Tacce e Giorgetti, da loro mai ricevuto favori. Andiamo nella fotonotizia di centropagine, il premier ottiene il via libera francese agli hotspot fra Libia e Nigeria, Macron-Conte accordo sui migranti ma è scontro tra Eliseo e Salvini. Poi ancora l'Italia a due velocità, al sud tempi doppi per le visite in ospedale. Lasciamo il messaggero, restiamo ai quotidiani romani, andiamo sul tempo, un titolo, un'apertura differente, retromarcia su Roma, la raggi appoggia l'ok alla via per Almirante, poi ci ripensa e boccia la sua maggioranza. Scandali e dilettantismo, sindaca in confusione, solo strade a gente di sinistra, perché si chiede il quotidiano il tempo. E poi chiaramente il caso stadio spunta pure il premier Conte, l'ex presidente Acea Lanzalone, me lo hanno presentato, avrò bisogno di lui, raggi sentita dai PM. Su Libero, il titolo di apertura, eccolo qui, il francese ci prova, lavoriamo mano nella mano, Conte e Macron si danno i bacetti, scrive il quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Incontro con effusioni ma niente intese su come cambiare i trattati, unica idea a fare centri profughi in Africa. L'Eliseo insulta ancora l'Italia per l'asse con Berlino e Vienna, evoca un triste passato, ha detto Macron, ma vada al diavolo, gli risponde Feltri. Parigi trucca i documenti dei migranti minorenni per poterli cacciare via meglio. Questa l'accusa su Libero. E poi a centropagina la foto dell'ex presidente del Senato, Grasso. Grasso non ha pagato i debiti col PD, decreto ingiuntivo all'ex presidente, scuci 83 mila euro. Troviamo anche il caso Stadio. La Raggi non sa mai fare niente, ma lo fa malissimo. L'inchiesta sulla corruzione per lo Stadio della Roma travolge i 5 Stelle. Lei si copre di ridicolo. Questo è il giudizio abbastanza tranchant del quotidiano Libero. Andiamo sulla verità. Anche qui c'è il vertice di Parigi in primo piano. Passa a parole la linea di Salvini, i migranti vanno fermati in Africa. Conte strappa Macron l'impegno a rifare le regole di Dublino e soprattutto creare nei paesi di provenienza hotspot dove selezionare i profughi. Lunedì va dalla Merkel, i complimenti di Trump, la voce grossa paga. E restando in tema, sull'Aquarius in balia delle onde ridono, ballano e giocano a Dama. Poi nel taglio alto lo scandalo dello Stadio della Roma. Parnasi, Bancomat dei partiti, primo il PD, ma i giornali parlano solo di Lega e 5 Stelle. Questa è la verità. Passiamo sul secolo d'Italia, hotspot in Africa, il titolo di apertura. E poi nel primo piano in taglio basso, pure Trump elogia l'Italia, bravi sui clandestini. Forse Italia attacca Premier Conte, solo annunci a Parigi e poi polemiche su Almirante. Stalin e Tito vanno bene, scrive il quotidiano che fa riferimento a Fratelli d'Italia. Andiamo su Avvenire, il quotidiano cattolico in apertura pone le parole del Papa. Lavoro vero, non assistenzialismo. Francesco invita a cercare una crescita inclusiva e non all'illudersi che dai ricchi possa piovere automaticamente il benessere per tutti. Oxe, fermo l'ascensore sociale, un secolo per migliorare. Andiamo a vedere poi le altre notizie. Macron e Conte puntano sugli hotspot in Africa per il vertice di Parigi. A centropagina, suocera ferma in Gambia per paura che emigri. L'Italia dei visti impossibili, pure per le nozze. Ministro, che si fa? Questa è la domanda di Avvenire. Andiamo sul secolo XIX. In apertura, tregua Italia-Francia, c'è intesa sui migranti. Macron a Conte, il mio interlocutore sei tu, lega esclusa, Salvini a Genova. I cinici sono oltre frontiera. Andrò a 20 miglia, questo sul quotidiano Ligure. Andiamo sul mattino di Napoli. Apertura differente rispetto al resto dei giornali che abbiamo visto. Corruzione, il record è in Campania. Le sentenze della Cassazione, prima davanti alla Lombardia. Sanità, il settore più esposto. Torre del Greco, spuntano assunzioni di neturbini in campi o di voti. Ballottaggio a rischio. Sulla inchiesta di Roma, nomine stadio, raggi da IPM, Movimento 5 Stelle. Cresce il malessere al sud. Il punto di Bruno Vespa, Di Maio, alla prova più difficile. Andiamo a centropagina. Migranti intesa Conte Macron, centri in Africa. E poi il caso, le scritte nella sala d'aspetto della ginecologia mai cancellate. Loreto Mare, se questo è un ospedale. E così abbiamo chiuso anche la panoramica per quanto riguarda i quotidiani generalisti nazionali. Adesso invece andiamo a vedere quelli sportivi. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Il titolo, anche qui abbastanza eloquente. Cristiano Marziano, tripletta show. CR7 da solo. Ferma la Spagna. Partita finita 3-3 per quanto riguarda il Mondiale di Russia 2018. Una partita bellissima. La Coppa del Mondo decolla. Grazie al pallone d'oro. Cristiano Ronaldo. E poi anche Milinkovic sotto i riflettori. Market mondiale. Da Neymar a Higuain. Quante stelle in vetrina. Juve-Golovin nel vivo. E poi andiamo nel taglio alto. Milano-Tricolore per il ventottesimo scudetto dell'Armani Jeans Milano. La finale decisa in gara 6. Che Olimpia è scudetto dedicato ad Armani. Battuta Trento. Il titolo torna alle A7 dopo due anni. Good luck ancora strepitoso. Proli punto di partenza. Andiamo sul Corriere dello Sport. Il titolo Dategli l'aumento. Uno spettacolo per gli occhi che ci riconcilia col Mondiale. In rotta col Real per soldi. Ronaldo fa subito il mostro. Una tripletta che frena la sua Spagna. Sua tra virgolette perché gioca in Spagna Ronaldo. Almeno per il momento. Oggi Messi Mbappé e Mandzukic alla prova del Mondiale. Nel taglio alto spacca Aurelio. Napoli da De Laurentiis. Tutte le risposte che inseguivamo. E poi ancora il Milan nel taglio basso. Iguain al Bonucci. Ma l'ostacolo può essere Sarri. Condizionante la cessione di Donnarumma. Cono senza coppe. Necessaria la grande punta. Pipita però dà la priorità al Chelsea. L'ingresso di un nuovo socio. Imprimerà un'accelerazione decisiva al mercato del Milan. Andiamo su Tutto Sport. E completiamo anche la lettura dei quotidiani sportivi. Il titolo di apertura. L'otito ora chi vuoi. Con le figurine di Rugani e Piazza della Juve Mercato e Mondiale. Juve Operazione Milinkovic. Andiamo nel taglio alto. Il titolo di taglio alto è Ronaldissimo. Sulla partita mostruosa di Cristiano Ronaldo. Adesso ci fermiamo per il break pubblicitario. Andiamo a vedere prima però le previsioni del tempo. E poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Partiamo da una buona notizia per l'occupazione che ci dà il centro nella pagina di primo piano. In Abruzzo opportunità di lavoro poste via al piano per 6.000 assunzioni. Siglato l'accordo che vale fino al 2020. La società sigla il patto anche con Amazon per il recapito dei pacchi. Si parte a luglio. E poi andiamo nel taglio basso. Consulenze assolti Bernardini e Dirino. Incarichi esterni legittimi. Sentenza d'appello della Corte dei Conti che cancella 100.000 euro di condanna. Nel 2016 la Corte dei Conti di Abruzzo li aveva condannati a risarcire la provincia di Pescara per un importo di 50.000 euro ciascuno. Andiamo adesso a vedere la pagina Abruzzo sul quotidiano Il Messaggero. Gli scenari dell'impresa. Ballone stupito da Lolli nella sua politica. Forte dose di realismo. Il presidente degli industriali dopo la svolta dell'assessore regionale. Come categoria non possiamo che essere d'accordo con lui. Leo Malandra della CISL dice L'Abruzzo ha agganciato alla ripresa ma resta ancora in vigore il nodo del masterplan. Andiamo a vedere anche cosa dice l'esperto. Giuseppe Mauro. I posti restano precari. Il rilancio ancora stenta. Questo è il giudizio dell'economista. Poi nel taglio basso sul cammino dei pastori alla scoperta della transumanza. Da questo weekend tre settimane di itinerari gastronomici con il meglio della tradizione. Andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo sulla città. Si parla di aumenti dei pedaggi. Gli aumenti dei pedaggi li decide la legge. Strada dei Parchi interviene per l'ennesima volta sulle proteste dei sindaci abruzzesi per il caro tariff. Dalla stessa parte, in fondo, si legge in una nota della società, pedaggi più bassi sarebbero l'interesse di strada dei parchi. In quanto potrebbero favorire un aumento del traffico autostradale. Poi la notizia da Pescara. Pino crolla su una strada in centro, in Viale Kennedy. Torniamo sul quotidiano il centro. Andiamo ad aprire la pagina Abruzzo. Così può cambiare la mobilità. Con i 5 milioni di telefonini si controllano. Auto e smog a Torino lo fanno già. Presto anche in Abruzzo la rivoluzione digitale del traffico. A Pescara il convegno dinamicità del 5 Stelle. Prima idea per migliorare i trasporti. Poi ancora nel taglio basso a Pescara la mostra della plastica spiaggiata in Abruzzo per la campagna delle WWF. E ancora il calcetto contro il bullismo in campo. Anche i politici del Movimento 5 Stelle. Apriamo adesso la pagina di Pescara. Paura in Viale Kennedy. Grosso Pino cade in strada. Sono 2.500 gli arberi a rischio. Sfiorata un'auto. L'ordine degli agronomi dice. Servono più controlli e fondi. Andiamo a vedere anche l'apertura di Pescara sul messaggero. Eccola qui. Barboni e degrado a Piazza Salotto. Denuncia in comune dei negozianti di Viviamo Pescara. I gazebo in abbandono sono diventati casa dei clochard. Sporcizia, occupazione abusiva di spazi pubblici, danni e topi sotto i portici. Ma le multe le prendiamo noi. Così i commercianti chiedono interventi immediati per la pulizia e la sicurezza. Soprattutto di aggiustare le telecamere. Maggioranza assente nella riunione della Commissione di Vigilanza. Masci dice. Convocherò il sindaco e l'assessore. Per quanto riguarda gli eventi. Notte Bianca dell'Adriatico. C'è Loredana Bertè, la festa del 14 luglio. Nel cast dei cantanti anche Noizze Narcos e Fra Quintale. Cuzzi presenta il contest fotografico. E noi andiamo a vedere il servizio. Grandi eventi a Pescara. Si parla della Notte Bianca. In questo caso forse l'evento clou dell'estate del Capologo Adriatico. Ci sarà il 14 luglio. Questa mattina avete però annunciato, assessore Cuzzi, il contest di questa manifestazione. Soprattutto un grande nome che arriverà quest'estate a Pescara. Siamo giunti alla quarta edizione. Abbiamo avuto delle edizioni molto partecipate. Oltre 200 mila persone per questo straordinario evento che promuove la vocazione turistica della città. e si sviluppa su 9 chilometri di costa per l'occasione interamente pedonalizzate. Oggi abbiamo annunciato questo contest che ha l'obiettivo di rendere virale e più social questo grande appuntamento. Raggiungibile appunto dal sito nottebiancadeladriatico.com. Il contest si chiama Scatta e vinci la Notte Bianca. Ci saranno dei premi appunto per coloro i quali si faranno una foto dal portale. La condivideranno su Facebook con l'hashtag Notte Bianca dell'Adriatico. Quindi si vinceranno dei biglietti per i concerti di Coez, Negrita e Renzo Arbore. Delle cene nei migliori ristoranti della città e dei pernottamenti nelle strutture alberghiere sempre per il 14 luglio. Inoltre sarà possibile avere anche dei pass speciali per accedere nell'area backstage dei principali concerti. Nei giorni scorsi abbiamo annunciato i primi artisti che intratterranno un pubblico di giovanissimi come Fra Quintale nell'area eventi Cofa con il concerto di Fra Quintale. Avremo il rapper Nois Narcos nell'area dell'Hawaii e oggi abbiamo annunciato anche il nome, lo straordinario concerto di Loredana Bertè all'Arena del Mare Spiaggia della Madonnina. Inoltre abbiamo invitato con una lettera i 46 sindaci della provincia di Pescara appunto perché la Notte Bianca si pone l'obiettivo di promuovere l'intero territorio regionale e provinciale e quindi li inviteremo a partecipare gratuitamente a questa straordinaria manifestazione per promuovere la loro cultura, le loro tradizioni, i loro eventi e anche le eccellenze no gastronomiche. Anche sul messaggero c'è quanto accaduto in Viale Kennedy a Pescara, crollo un pino sfiorata un'auto in Viale Kennedy, tragedia scampata, l'albero era nella lista di quelli a rischio, in Viale Fornaci, 110 firme per salvare due querce secolari. E poi le mense scolastiche, vertice in procura, negativi i primi test sui pasti analizzati, il congelamento uccide i batteri, dunque bisognerà procedere con altri esami e accertamenti. Chiudiamo la lettura del messaggero delle pagine di Pescara. Briosi, delitto annunciato in tre lettere, l'ex marito le ha lasciate nello studio della villa destinati alla compagna, all'avvocato e a un parente chiedendo scusa. Lunedì a Udine i funerali di Donatella, poi la sepoltura a Pescara, iniziativa antiviolenza delle amiche sommelier. L'omicidio suicidio, nuovi sviluppi investigativi, Cattaruzzi aveva riavuto da un amico la sua calibro 38, avrebbe pianificato in tutto e per tutto il delitto. E poi le altre notizie, Minetti Casale di Tonno è stata ricca a Montesilvano e l'Avis presenta la sua nuova emoteca a Piazza Salotto e cerca giovani donatori. Andiamo a vedere le altre pagine di Pescara sul centro. La tragedia del viadotto un mese dopo, adesso bisogna vivere per Marina e Ludovica, sono le parole del dottor Francesco Angrilli, fratello e zio delle vittime, nulla è più uguale senza di loro, ma devo dire grazie a tante persone che evidentemente gli sono state vicine. E poi nel taglio basso Porta Nuova chiude per la partita, stasera Siena-Cosenza, finale del playoff di Serie C dalle 17, niente auto nei bus da Viale Marconi alla Bonifica. E poi l'arresto della polizia, Viesonso-Scippo un anziano inseguito dai passanti e preso. Proseguiamo sul centro, Piazza Salotto invivibile, puzza sporcizie e blackout, abbiamo già visto in precedenza la denuncia dei commercianti, e poi scandalo menze a confronto tecnici e investigatori nel vertice in procura, e poi ancora asta con Duccio per il campus dei disabili, oggi al porto turistico, e nel taglio basso corso sui disturbi della personalità, oggi al carton. Per quanto riguarda le nuove analisi dell'arte, il mare è pulito, via il divieto all'altezza di Fosso-Vallelunga. Nella pagina successiva lo scontro sui parcheggi estivi, Diodati dà l'ultimatum alla sua maggioranza, l'assessore pronto a lasciare la delega se non passa il piano del bus navetta, ma il PD insiste, sì, alla sosta sulla strada parco. Il presidente del Consiglio Comunale Pagnanelli, la proposta dei mezzi pubblici, si è già rivelata un fallimento. È convocata una seduta straordinaria per la vendita dell'ex cofa, che sarebbe stata decisa dalla Regione. E poi i lavori sulla Riviera Sud, quasi pronta alla ciclabile, il Comune avvia nuovi lavori in dieci strade della periferia. Nella pagina successiva, la notte dell'Adriatico, abbiamo già visto, c'è la Bertè e poi quanto piace Sputnik, autografi e selfie con Luca Carboni nel centro di Pescara Nord. Nella pagina successiva troviamo quella di Montesilvano, addio alla sede storica, l'Alessandrini trasloca, 355 studenti in via Dagnese. Da settembre i ragazzi lasceranno per sempre il fatiscente edificio di via Verrotti. La provincia risparmierà 370 mila euro d'affitto. Il trasloco è già iniziato. Dopo le proteste dei bagnatori, la provincia dice sì al parcheggio nella Stella Maris. Poi ancora l'estate Montesilvanese, musica, sport e cabaret con festa estiva. scatta anche l'isola pedonale con le manifestazioni previste dal comune. Andiamo nella pagina dell'area metropolitana e troviamo lo scontro sui social fra Luciani e la Canosa. Cambio nome alla festa di A cena con gli artisti che si tiene di solito a fine agosto a San Franco. L'ex collaboratrice del sindaco avrebbe registrato il marchio a proprio nome. Ed ecco perché ci sono stati questi problemi e la decisione del cambio di nome. E poi la segnalazione dei cittadini perdita d'acqua nel sottopasso di Pretaro. Ieri ci sono stati problemi con l'erogazione idrica in tutta la parte nord della città. E ancora yoga e bici nel weekend dedicato allo sport a Francavilla in programma per oggi. Anche una pedalata con i vecchi campioni delle due ruote. Nel taglio basso consiglio sul sottopasso con il governatore a San Giovanni Tiatino. 21 giugno seduta del Masterplan e sottopasso di Corsa Italia con il governatore D'Alfonso. Nella pagina della Val Pescara i problemi della sanità, geriatria e emergenza anche a Penne, non solo a Pescara. Il reparto già affollato chiude dal primo luglio e si teme anche per cardiologia che offrirà solo il servizio ambulatoriale. Il direttore sanitario e i posti letto saranno recuperati in medicina generale. Di fatto aumenteranno perché ce ne sono 40 disponibili. E come detto il caso di Pescara finisce al TG5. Pignoli chiede un sopralluogo nel reparto di geriatria. A Popoli centro risvegli tante richieste a Naverna ora tocca ai politici e poi nel taglio basso dopo la cerimonia a Palermo gli studenti vincitori donano al Polizia il lavoro premiato. Andiamo ad aprire la pagina di Chieti ancora sul quotidiano Il Centro. Parte lo scontro giudiziario ex IPAB, decreti ingiuntivi contro i comuni morosi, prime azioni legali verso Chieti che ha 125 mila euro di debiti e manopello. Pescara paga l'arretrato ma il buco delle case di riposo resta di 447 mila euro. L'inchiesta sul nuovo stadio della Roma c'è anche un teatino fra gli arrestati. Si tratta di Simone Contesta, 40 anni, un passato da studente dell'Istituto Tecnico di Savoia e un presente dal collaboratore del manager Luca Parnasi. Nel taglio basso la cronaca aborto in casa, il bimbo è nato già morto, Chieti genitori indagati per omicidio ma l'autopsia li scagiona, attesa per gli esami tossicologici. Nella pagina successiva tassa di soggiorno, studenti esclusi, a Chieti passa la proposta di Marzoli per gli universitari ma slitta l'introduzione prevista per il primo di luglio. Nel taglio alto appello a riesame per i minorenni vastesi arrestati, ricorderete il caso di molestie nel vastese. E poi nel taglio basso il fratino non nasce più nel vastese da Casalbordino a San Salvo, quest'anno neanche un nido del piccolo trampoliere. Nella pagina successiva l'addio a Lorenzo tra tanta gente sulle note di Vasco, Tollo, negozi chiusi alle seguite, giovane morto nell'incidente. Don Joseph dice è un momento difficile, l'amico Alessandro era un cuore generoso. Andiamo nelle pagine di Chieti sul messaggero, eccole qui, in apertura di pagina troviamo il caso del feto morto, feto di otto mesi nato già morto, disposto l'esame tossicologico. Da accertare se l'uso di droga da parte della madre abbia influito sull'aborto, cade l'accusa di omicidio colposo verso i sanitari che hanno soccorso la giovane. Poi ex Enal in vendita Caputi, restiamo da inquilini, la decisione della regione sull'attuale museo di scienze biomediche dell'Adannunzio ha suscitato sconcerto il museo alla Bucciante. Andiamo avanti sempre su questa pagina e troviamo nel taglio basso la tassa di soggiorno con gli universitari esentati. Nella pagina successiva la Oneiwell, scontro sui licenziamenti, l'azienda non vuole sospenderli, il Ministero dello Sviluppo Economico insiste affinché vengano temporaneamente congelati. Ennesimo incontro a Roma tra i dirigenti della multinazionale di turbocompressori, i sindacati FIOM, FIM e WIL e le istituzioni. Possiamo andare a vedere insieme il servizio. La direzione aziendale della Oneiwell di Atesa ha confermato a Roma i 263 licenziamenti comunicati via lettera l'indomani dell'incontro ottenuto al mese il 4 giugno scorso. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso il proprio disappunto annunciando che scriverà la capogruppo americana Oneiwell per chiedere il ritiro del provvedimento. Al contempo dal di Castero di Via Vittorio Veneto è stata chiesta la copertura economica e contributiva dei due mesi rimasti scoperti a partire dal 2 aprile scorso per la mancata approvazione della CIGS. Tutto questo lo si apprende da fonti sindacali. Appena arriverà la risposta dalla multinazionale americana, il mese convocherà di nuovo il tavolo negoziale che vede impegnati anche i sindacati di categoria di CGL, CISL e WIL. Presente a Roma anche la Regione Abruzzo con il Vice Presidente Giovanni Lolli e il Consigliere regionale Antonio Inaurato, Presidente della Commissione Attività Produttive. La proposta avanzata è quella dell'utilizzo di fondi europei per la formazione dei dipendenti rimasti. Proposta tuttavia legata alla prevista e auspicata reindustrializzazione del sito produttivo di Atessa. Finora sono state presentate soltanto lettere di intenti per tre progetti in ambito automotive. Andiamo avanti con la lettura dei giornali. Torniamo sul quotidiano Il Centro che in apertura pone la tragedia di Colonnella. Operaio muore schiacciato da una ruspa. L'incidente nello stabilimento della Stam che produce Concimi. La vittima è un 62enne di Canzano. Incidente che ritroviamo in apertura anche sulla pagina di Teramo del Messaggero. Operaio muore schiacciato. Il collega non l'ha visto. L'uomo è stato travolto per due volte dalla pala manovrata. Da un altro ha detto che nel Capannone la visibilità era molto scarsa, molto bassa, per i fumi sprigionati dalla fermentazione del materiale organico. Andiamo a vedere anche come titola la città su questo ennesimo incidente sul lavoro. Schiacciato dalla ruspa guidata dal collega Aldo D'Agostino è morto sul colpo. Nel Capannone della Stam di Colonnella l'inchiesta, la magistratura ha sequestrato la pala meccanica e ha disposto l'autopsia sul corpo dell'operaio. Due indagati come atto dovuto. Proseguiamo e torniamo sul quotidiano Il Centro. Perché sempre su questa notizia si pone l'accento sulla battaglia del sindacato contro l'azienda. Pollastrelli da mesi ha chiesto la revoca dell'autorizzazione regionale perché rende l'aria irrespirabile. Dunque ci sono anche queste ombre, diciamo, su questa ennesima tragedia sul lavoro. Andiamo avanti sul quotidiano Il Centro, sempre dalle pagine Terramane. Si sente male per l'acqua, scatta l'inchiesta per adulterazione. La procura apre un fascicolo sulla donna ricoverata dopo aver bevuto dal rubinetto di casa. Per la ASL alluminio oltre i limiti, per il ruzzo invece nessuna criticità. Indagano i carabinieri forestali. Nel taglio basso, bimba annegata via il processo alla madre. La tragedia due anni fa a Pineto, la donna imputata insieme a un bagnino per omicidio colposo. Andiamo nella pagina successiva. Silvia al ballottaggio. L'appello di Comignani cade nel vuoto a Stolfi del Movimento 5 Stelle. Non diamo indicazioni di voto ai nostri elettori. L'ex alleato del vecchio. Meglio votare Scordella. Noi ci occuperemo proprio del faccia a faccia tra i candidati a sindaco di Silvi. Con la trasmissione che andrà in onda lunedì sera alle ore 21. Proprio per capire quali sono i progetti per la città dei due candidati. Andrea Scordella per il centrodestra e Francesco Comignani per il centrosinistra. Torniamo alle notizie sul giornale e proseguiamo con il messaggero nelle pagine di Teramo. Anche qui, tornando al dramma di Colonnella, si pone l'accento sul giallo dei rifiuti trattati. I sindacati non lo sapevamo. Poi, nel taglio basso, Bimba Annega, Mamma e Bagnino, a processo per quello che è accaduto due anni fa a Pineto. Nella pagina successiva, Ater, i pannelli volano via col vento. Furono installati nel 2006 ma non sono mai entrati in funzione. Strappati quattro anni fa dal maltempo, ora sono in un vano autoclave. Le famiglie denunciano, per noi sono del tutto inutili, ma nelle nostre case ci hanno lasciato quelle centraline. Andiamo nel taglio basso, andiamo ad Alba Adriatica. Sindaca Casciotti presenta la squadra, Ciccatelli alla sicurezza e vice sindaco. Cicchetti al commercio, Colonnelli ai lavori pubblici e Pulcini delega al bilancio. Una compagina a trazione femminile che vede la presenza di quattro donne su sette componenti. della giunta. Torniamo sulla città. Ecco qui, completiamo anche la lettura della città. La politica, la Lega scopre le carte sugli accordi in regione. Lega di Stefano e di Dalmazio da una parte, Forza Italia, Gatti di Primio dall'altra. Teramo nel mezzo. Queste le prime indiscrezioni ci si prepara anche al voto regionale. e poi la prova del nove. Zelli conferma che la Lega sarà un interlocutore alle regionali. La cena di Dalmazio lascia carta bianca ai suoi nel taglio basso. Nessun accordo con Morre e Dalberto. Comunque all'opposizione. Sempre per la politica, offresi appoggio in cambio della ricostruzione in vista del ballottaggio, Cavallari potrebbe proporre un contratto per la città ad Alberto e Morra. E poi nemici amici, Covelli, Dodo e Gerosolimo pizzicati in piazza con Gatti. Dialogo inevitabile nel centro-destra. Andiamo avanti. La politica resti fuori dall'IZS caporale. Il sindacato FSI stigmatizza l'uscita del presidente di Pasquale sulle assunzioni. Fuoco amico tra Teramo 3.0 e Partito Democratico. E poi il PD è lo stesso centro-destra che ha già fallito. Polemica su Vecchio e Nuovo. I Dem rinfacciano la lista dei fallimenti dell'amministrazione Brucchi. In casa d'Alberto il PD sarebbe al ballottaggio anche con Cavallari. C'è malumore tra Dem e liste civiche. Andiamo avanti ancora sulla città. Nella pagina della provincia l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha ammesso di non essere a norma sotto il Gran Sasso. A Quasicura gli ambientalisti scoprono e svelano nuovi documenti sulle captazioni del Gran Sasso. L'accusa, l'INFN, alla faccia dei numerosi comunicati dell'ultimo anno, già nel 2014, ammetteva candidamente di non essere a norma rispetto agli obblighi di distanza dei laboratori dai punti di captazione dell'acqua potabile usata da centinaia di migliaia di persone. Intanto, nel taglio basso, la Procura di Teramo indaga sull'acqua torbida di Casemolino. Dopo l'interruzione idrica e i malori accusati, la magistratura ha aperto un'inchiesta per adulterazione di acque. Nella pagina successiva, quella della Val Vibrata, la Casciotti distribuisce tutte le deleghe. Il sindaco di Alba Adriatica vara alla nuova giunta riservandosi la sola gestione e il coordinamento degli assessori. E poi, affidato il secondo lotto del depuratore a Tortoreto, toccherà ancora alla Suez completare l'impianto. Nella pagina successiva, allarme per le richieste della Corte dei Conti a Giulianova e poi ancora CSA riconsegna il CIRSU alla DECO martedì mattina alla restituzione della discarica. Torniamo sul quotidiano Il Centro, andremo ad aprire le pagine dell'Aquila, il futuro della sanità, nuovo ospedale, sindacati, altre priorità da trattare. La CGL rilancia l'annosa questione della carenza di personale alla ASLE, non convince il ricorso al project financing, alto rischio di indebitamento. Nel taglio basso, D'Alfonso, l'emendamento antitasse, primo atto da senatore su una questione che interessa il capoluogo regionale. Andiamo avanti, sul Mona, l'incidente in un cantiere, cavi tranciati, niente internet in città, rete in tilt e disagi. A non finire. Andiamo avanti, sull'Aquila, per quanto riguarda il messaggero in apertura, Vigili Urbani e Progetto Canse, bufera sui bandi della discordia, revocata la graduatoria di 900 persone per le assunzioni della Municipale Romano, passo possibile, va all'attacco, Petrella replica, basta con il precariato. Poi il PD si ricompatta, agenda città e l'esecutivo sui temi per quanto riguarda la riorganizzazione del Partito Democratico dell'Aquila. Nel taglio basso, i perché della soluzione del sindaco, fatti eccezionali, sindaco Luigi Cannavici, e poi terreno non bonificato, condannato un ingegnere. Nella pagina successiva, sotto servizio di SEA a Via Fortebraccio, il cantiere bloccato da gennaio per il ritrovamento di un'antica fognatura di cui è stata negata la demolizione, tra due settimane la GSA invierà la variante progettuale che dovrà essere vagliata dalla soprintendenza per ripartire. Andiamo avanti ancora nella pagina di Avezzano Sulmona, rifiuti, mega operazione, scova evasori. Ad Avezzano l'iniziativa è di Comune e Tecneco, servizio notevolmente migliorato, ma ora basta con la spazzatura gettata in strada. 14.000 chili abbandonati, gli addetti gireranno casa per casa per i documenti presutti. Vogliamo una città più pulita. Andiamo ad aprire le pagine di Sport, lo facciamo dal centro partendo dalla serie B e dalle trattative di mercato. Pescara-Genoa si stringe per un tris di acquisti, Morosini-Asenzio e in prota in Biancazzurro-Cariglio in Liguria a titolo definitivo. Il Carpino riscatta la punta Melchiorri, il rivolno sull'attaccante è un nostro obiettivo, ma il Delfino è in corsa. Per il reparto avanzato a Pillon non dispiacerebbe avere il Gambiano-Iallo del Chievo. Il presidente Sebastiani a Milano incontra Liguria e Inter. Oltre a Crivello piace Lopez, in arrivo il Bebi-Uruguariano Rodrigo Muniz. Poi nel taglio basso troviamo invece il Teramo. Teramo-San Domenico l'attaccante è ai saluti. Se le Cilex, l'Aquila non ha trovato l'accordo per il rinnovo da valutare la posizione di Sales. Andiamo a vedere anche le pagine dello sport sul Messaggero. Il Pescara tiene Macin e Palazzi è il titolo di apertura. Brugman sempre più verso il Parma su specifica richiesta di D'Aversa. Per la difesa spunta anche il nome del veterano e inossidabile Mammarella. Per il Fuzza, l'Acqua e Sapone, oggi la grande festa Scudetto all'Outlet Village. E poi per il Teramo, Campitelli contro Gravina. Siamo aperti a nuovi soci ma non può dettarci la linea. Ingresso di Candeloro ancora in stand-by. Andiamo ad ascoltare insieme il servizio di Jacopo Forcella che contiene anche le parole di Gravina. Un weekend che potrebbe risultare decisivo per il futuro prossimo del diavolo. Sia in senso positivo che negativo. Perché affari spenti i contatti tra la società Biancorossa e Gilberto Candeloro vanno avanti. E nei giorni caldi della trattativa per l'allargamento della base societaria del Teramo è lo stesso presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, a tracciare la strada per il presidente Campitelli. Credo che il Teramo non è esente da quelle difficoltà che sono fisiologiche all'interno della Lega Pro. Fa bene Campitelli a cercare aiuto perché io so quanto a livello personale sostiene, quali sono i sacrifici suoi e della sua famiglia. E credo, lo dico senza falsa retorica, io gli consiglio di allargare la base sociale. Lui non deve più rischiare perché non è giusto, non è morale che un uomo debba svenarsi, rimettere risorse, rischiando in prima persona con la propria azienda. Ci vuole un progetto organico, il rischio va frazionato, questo lo dico non al Teramo o a Campitelli, lo dico a tutti i presidenti della Lega Pro. Attenzione perché le risorse sono scarse, le esigenze sono altissime, la competizione sportiva è una competizione molto severa, molto selettiva, bisogna essere preparati ma bisogna essere anche molto responsabili. D'altronde, come ammette lo stesso numero uno della terza serie, le difficoltà sono davvero enormi per le società di calcio. Una situazione che si inserisce in un momento di grande difficoltà generale, una difficoltà che noi stiamo cercando di governare nel miglior modo possibile, ma purtroppo, come è noto a tutti, i grandi impavidi condottieri, i presidenti della Lega Pro sono stanchi, continuano a far fatica a riversare e a coprire le continue perdite con risorse proprie, della propria azienda, delle proprie famiglie. Dunque la parere di Gravina è chiaro, ora tocca a Campitelli fare proprie le parole del dirigente oppure no. Quello che è certo è che le trattative proseguono il fine settimana potrebbe essere risolutevo. Dunque il mercato per il momento è ancora fermo, si aspettano equilibri nuovi o vecchi. E' ancora presto per dire dunque come sarà il terramo futuro sul campo, quello che i tifosi cercano di capire adesso e chi prenderà le decisioni importanti. E' sempre Jacopo Forcella sulla città, ci ripropone, ci propone anzi le parole di Campitelli che risponde a Gravina. Insomma Campitelli ha detto questo, non permetto a nessuno di dire cose di questo genere, il presidente della Lega non può dire quello che deve fare una società di calcio. Siamo aperti a qualche nuovo socio che voglia entrare, non abbiamo mai chiuso le porte, aspettiamo a braccia aperte chi vorrà entrare a patto che si inserisca nel solco del progetto Teramo e che voglia continuare a perseguirlo. Poi su Candeloro ribatte, da parte mia c'è ampia disponibilità, lui sa tutto e credo che sia una persona per bene, sarà lui a decidere quello che vuole fare. Con queste parole si chiude la nostra rassegna stampa, io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon fine settimana e l'appuntamento di oggi con la nostra informazione è alle 14, alle 19 e alle 23 con il TG6. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.